adesso vi spiego dove sono però eh vi spiego dove sono in questo gioco di festa aspetta aspetta che arriva anche il Taski il Taski, il Taski arriva ecco ciao Taski eccolo, fantastico hai vendito il mio bellissimo audio ecco Vasco, ecco Taski ok, ciao buona giornata buona giornata sto iniziando un vlog, un nuovo vlog oggi va bene vlog e spiaggia beach vlog beach vlog chi la deve? va bene ragazzi oh noi siamo venuti in un posto che si chiama Pataya Pataya Beach allora Pataya Beach giusto per spiegarvelo un po' un posto che probabilmente tanti anni fa era bellissimo ma ora è tutto abbandonato praticamente a parte questa parte beach che è ancora attiva ma vi posso assicurare che era un villaggio magnifico bellissimo che è tutto abbandonato e ormai anche diciamo rapito di tante cose perché ci sono tantissimi tantissimi furti hanno spaccato i vetri è una tristezza vedere l'Egitto in queste condizioni sicuramente 4, 5, 10 anni fa non era così ma ora io vi posso assicurare che è tutto rotto ma ora io vi posso assicurare ma ora ma ora io vi posso assicurare io vi posso assicurare Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Aspetta che dopo parliamo un pochino io e te eh Eccola Io e la Marti stasera siamo andati appunto come potete vedere qua Al Casinò Va bene vi faccio vedere com'è dentro Così almeno poi vi fate un'idea Di com'è Casinò a Charme Shake Va bene? Vai noi entriamo Entriamo Vai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vi porto con me in discoteca e vi faccio vedere questo grande locale di Charme Shake Che è dove si balla una discoteca in pieno deserto e stasera voglio regalarvi questo piccolo vlog dedicato appunto a questo locale e a questa serata che si chiama Desert Party va bene? Siete pronti? Grazie a tutti 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 Non posso più restare fermo ad aspettare, io non posso più dividermi tra te e il mare.